Il Piemonte per noi è una zona importante, storica come presenza aziendale. Abbiamo recentemente, nell'ottobre del 2017, riaperto il centro olio di Trecate con un importante investimento di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale. Oltre 7 milioni e mezzo per ridurre significativamente gli impatti emissivi e migliorare le condizioni di sicurezza e sostenibilità ambientale dell'impianto. Inoltre qui a Novara abbiamo lo storico centro di ricerca Donegani al quale abbiamo affidato, oltre alla mission tradizionale sulla chimica e sulla chimica verde che rappresentano uno dei mercati su cui Eni sta investendo, anche una nuova mission che è quella di fare ricerca e sviluppo sui temi delle energie rinnovabili e in particolare sui temi del solare e anche della produzione di combustibili da fonti rinnovabili. Su questo abbiamo naturalmente attivato importanti partnership istituzionali con il territorio ma anche con grandi soggetti internazionali. Oggi nella grande rivoluzione digitale che è in atto fare rete è fondamentale e costruire un rapporto di innovazione continua con il territorio è imprescindibile per un'azienda come Eni e noi qui a Novara stiamo trovando le costruzioni per fare del centro Donegani il più importante centro di ricerca su questi terreni attraverso una serie di collaborazioni che riguardano ovviamente il Politecnico di Torino ma anche il CNR su temi anche immaginifici come quello della fusione nucleare ad esempio e con il MIT di Boston sullo stesso terreno. Grazie per la visione!